Cari bambini da casa c'è il Pollaio in pausa, l'appuntamento più divertente della settimana. Vi aspettiamo tutte le domeniche alle ore 13.40, tutti i lunedì alle ore 13 e tutti i mercoledì alle ore 8. Qui al Pollaio ci sono tante sorprese, i burattini, i lavoretti, le avventure allo stagno, la giocoleria. Sempre qui al Pollaio in pausa, vi aspettiamo su Napoli TV. Grazie per la visione!